Donne nelle amministrazioni locali, donne nel lavoro. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la CGL traccia i contorni dell'impegno al femminile nella marca. Nei 95 comuni della provincia, le donne sindaco sono 23, 21 quelle con il ruolo di vice sindaco. A Casier, unico municipio della marca, sono rivestiti da donne entrambi gli incarichi. Gli assessori in rosa sono il 37%, mentre tra i consiglieri comunali è donna 1 su 3. Da un punto di vista di numero ci aspettavamo questo. L'obiettivo è una crescita di quel valore, che almeno si raggiunga, non dico il 50%, però ci si avvicini almeno. A Morgano e Trevignano di consiglieri donna non ce n'è neppure uno. A Segusino, Pederoba, Oderzo, Cordignano e Gagliarine sono oltre la metà. Pari opportunità come in politica, anche nel lavoro la strada è ancora lunga. C'è ancora tanto lavoro da fare, nel senso che poi è una partita quotidiana, luogo di lavoro per luogo di lavoro. Quindi è necessario su questo riuscire a gestire la giusta flessibilità che in qualche modo garantisca pari opportunità a tutti, in senso più ampio possibile, in particolare sul tema della conciliazione della vita rispetto ai tempi di vita col tempo di lavoro. Necessario anche sgravare le donne sul fronte della gestione dei figli e dei genitori anziani con un'adeguata rete di welfare. Molto si è fatto dai tempi delle dimissioni in bianco e degli ostacoli alla maternità, ma per il sindacato alla marca manca ancora un netto cambiamento di mentalità. Vorremmo che sotto il profilo culturale si facesse molto di più e che cambiasse alcuni atteggiamenti che comunque anche nel nostro territorio hanno elementi di pregiudizio.